Abbiamo qui con noi il Presidente Paolo Sestini e il Presidente del Comitato Giovani Impreditori che è Alessandro Marconi. Presidente, penso che questa iniziativa sia stata veramente interessante, ha assistito alle varie relazioni e penso che possa dare uno sviluppo futuro interessante alle aziende socie della banca stessa. Sì, innanzitutto ringrazio il Comitato dei Giovani Soci anche perché non esiste azienda se non programma il futuro e il futuro oggi non possono essere che i nostri giovani che hanno idee nuove, all'avanguardia e soprattutto con i propri coetanei riescono a cogliere l'essenza e lo sviluppo del momento. È un'iniziativa importante, ho notato che questi ragazzi si impegnano, hanno idee originali e con la carta dei nuovi soci e con lo sviluppo del web possono dare davvero un impulso a rinnovare e a creare nuove sinergie attraverso la banca con tutti i soci. Alessandro, visto che c'è qualche rilegamento intera, non posso che dargli del lei, quindi devo dare del tu. Alessandro, mi sembra che l'iniziativa sia veramente interessante, vi dovete dare da fare perché questa abbia lo sviluppo che si merita, quindi è un progetto che può dare delle prospettive veramente in questo momento per le aziende, un momento di crisi, appunto di sviluppo e anche penso di serietà nel colui il quale poi aderisce al progetto stesso. Esatto, noi crediamo molto in questo progetto, abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco il credito cooperativo d'Andialistia che ci sostiene e ci dà forza. È molto importante questo progetto, le aziende socie della banca che fanno sistema, che si uniscono, uniscono i propri sforzi, offrono sconti e agevolazioni fra di sé ai soci della banca e anche alle imprese e usufruiscono delle professionalità e della creazione di nuove cooperazioni. Pensiamo che possa essere il modo giusto per affrontare questo momento di crisi, trovare la forza all'interno e avere un credito cooperativo al proprio fianco che li sostiene è molto molto importante. Pertanto io vi invito a visitare il portale che è all'interno del sito ufficiale della banca di credito cooperativo sotto la sezione dei giovani soci. Il progetto Insieme per lo Sviluppo, aderite perché ne vale la pena, è un progetto molto 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 interessante.